Cesare Materasso, responsabile provinciale Dipartimento Giustizia dei Fratelli d'Italia, siamo qui alla Mezzia per la presentazione della riforma della giustizia. Buonasera a tutti, siamo qui con illustri ospiti, abbiamo due sottoseditari di governo, nonché autorevoli operatori del diritto, un evento organizzato e voluto dal Dipartimento che io ho l'onore di presiedere, insieme al coordinamento cittadino di la Mezzia Terme. Parleremo di queste riforme, una sintesi del primo pacchetto che è stato già varato e di quello che verrà fatto nei prossimi giorni dal governo Meloni. Puntiamo a dare nuovamente centralità al cittadino con le garanzie e i diritti che invece alcune riforme sbagliate di questi anni hanno compresso.